Io sono Alice, ho 38 anni e vengo da Padova. Nel 2018 mi hanno diagnosticato la leucemia mieloide acuta e come si può immaginare la mia vita è cambiata dal giorno alla notte. Mi piace sempre raccontare quando racconto ai ragazzi giovani che hanno poco più di 18 anni che ho conosciuto Admo per sbaglio. L'ho conosciuto perché? Perché c'era una bambina che cercava un donatore compatibile di migliorlo. Nel 2018 però mi sono trovata io dalla parte di quella bambina che credevo tanto distante invece in realtà era molto più vicina di quello che credevo e quindi appunto mi hanno detto che è Alice, hai la leucemia. Il mio mondo è cambiato dal giorno alla notte e la mia vita, le mie priorità, la mia preoccupazione, insomma tutto è cambiato. E mi hanno detto da subito che avrei avuto bisogno di un donatore di dono. Fatalità, nella mia sfortuna sono stata una persona molto molto fortunata perché il mio donatore c'era e mi ha fatto rinascere per la seconda volta. Quindi io sono Alice per la seconda volta. La questione Covid è stata molto forte. La malattia mi aveva limitata molto a livello proprio umano e sul più bello che sembrava che le cose stessero andando sempre più migliorando. È arrivato il Covid e il Covid mi ha ulteriormente buttato giù di morale ma anche a livello psicologico ma fisico anche. La parola che esprime la mia storia, cioè la mia situazione passata è la forza. E la forza per aver superato, anche se tuttora non me ne rendo conto, ma per aver superato a testa alta la malattia. Per averla sconfitta e per realmente non essermi mai abbattuta, anche se è stato molto molto difficile. Volevo raccontare la mia storia perché mi sento dal cuore di farlo. ho perso tantissime persone a me care. E quindi io voglio portare avanti la speranza anche per queste persone che non ci sono più. E che... e che grazie io, grazie a un ragazzo di 19 anni, sono qui. Sono Alice per la seconda volta. Ed è la cosa più bella del mondo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.